Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILE dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. In A1 fino a mezzogiorno, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Sul raccordo Bettolle-Perugia, fino al 20 novembre è chiuso lo svincolo di Cortona, in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Perugia. Sulla statale 1 Aurelia, fino a fine novembre, lavori a tratti saltuari, tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni tra i chilometri, 221,800 e 226 con scambio di carreggiata. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!